Un paese in crisi, è questa l'immagine che descrive oggi l'ex sindaco di Diamante Ernesto Caselli, un'analisi impietosa, soprattutto in riferimento ad uno specifico settore. Diamante non vive un buon momento, devo dire, basta vedere insomma il calo delle presenze turistiche al di là della crisi, basta vedere i problemi che ci sono, fatti che ho denunciato su carri d'appalti, una situazione che si sta ingrenendo da un punto di vista politico, ma soprattutto dove la morale nel pubblico agisce sempre di meno. A monte dei problemi della comunità, la condizione di incompatibilità del sindaco e deputato Ernesto Magorno. Perché penso che sia affidata alla coscienza di qualsiasi persona faccia politico, rivesta una carica importante come quella di sindaco e di parlamentare. Se uno riesce a far bene sia il sindaco che il parlamentare, e se ha queste potenzialità, ritengo che sia utile sfruttarle, certo, obiettivamente uno dovrebbe ragionare se è più importante fare il sindaco, più importante fare il parlamentare, o dedicarsi a tutte le due le cose. Penso che sia affidata alla coscienza individuale. Infine un monito non troppo velato alle ultime attività della magistratura sul Tirreno Cosentino che si stanno focalizzando sulla trasparenza amministrativa. Ci sono molte sorprese sul Tirreno Cosentino, c'è un'area che non è delle migliori e devo dire che la magistratura sta attenzionando molto almeno tutto il litorale cosentino e quindi c'è un problema di che preoccuparsi, sinceramente. Se uno fa vincere la logica del bene amministrare, della trasparenza amministrativa, penso che problemi non ce ne saranno. Se ci sono altre cose invece qualche altro problema ci sarà. Grazie. 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 Grazie.